Ok, abbiamo ridotto la zona, liberiamo dalla mantellona la fanciulla e poi passeremo alle considerazioni finali su conventi vari. Com'è? Nuovi contatti? Sì, mi sa proprio che al prossimo tagliamo via tutto. Sono prontissimi. Lo so che sei pronta. Il rasoio è anche a rifulire bene le zone. Ci sono alcune zone ancora da rifulire bene dalla plurietta. Direi che comunque anche questa trasformazione è molto particolare, molto azzardata, estrema in tutte le sue sfaccettature se vogliamo. Però anche esteticamente c'è il suo ritorno. Sì. Divertente? Sì, sì. Ok, adesso facciamo l'intervista finale con tutte le nostre di chiusura. Va bene. e da voi puoi dire se vi garba o non vi garba. Positivi, negativi, ci sono i lunghisti, i cortisti. Beh, ci sarà di tutto di più. Un bel uovo di Pasqua. Adotto. Grazie. Grazie. Grazie.